Presidio dei lavoratori della Toto Costruzioni stamani sotto il Palazzo del Governo per protestare contro il blocco del cantiere del Terzo Lotto della variante Aurelia. Nessuna notizia da mesi da ANAS che dovrebbe dare l'ok sulle varianti al progetto, necessarie subentrate in corso d'opera sulla realizzazione dei tunnel della strada di collegamento. Le richieste avanzate dall'azienda, sostenute anche dai tecnici di ANAS, dove prevedono delle modifiche al progetto, a tutt'oggi ancora non sono state deliberate e approvate da ANAS. Quindi chiediamo, con questa giornata di manifestazione, che ANAS decida di fare andare avanti i lavori e trovare un accordo con l'azienda. Le varianti peserebbero ulteriori 55 milioni di euro su un progetto da 140 milioni che sulla carta dovrebbe essere terminato già nel 2018. Ma con questo blocco la data di fine lavori rischia di slittare ancora in avanti. Uno di sé è infinita per un'opera considerata fondamentale per lo sviluppo delle infrastrutture viarie, per le attività economiche e per l'hub portuale e per realizzare la pedonalizzazione del centro città. Intanto i 180 lavoratori sono stati messi progressivamente in cassa integrazione da gennaio ad oggi. L'amortizzatore sociale terminerà però a fine luglio e c'è preoccupazione per il futuro di maestranze e impiegati. Devi lasciare la famiglia per un mese a casa, andare una volta al mese a casa, ti danno un solo viaggio al mese, dove potrebbero mandarci ogni 15 giorni con due viaggi al mese e invece non lo fanno. Mi mancano due anni per andare in pensione, se è così quando vado in pensione io? Il presidio unitario ha parzialmente bloccato il traffico in via Veneto sino alle 11 quando i rappresentanti sindacali hanno incontrato il prefetto. Siamo molto preoccupati perché la cassa integrazione sta andando avanti ormai da gennaio e abbiamo paura che l'azienda abbandoni il cantiere, questo significherebbe rifare una gara internazionale e un blocco di tre anni. Purtroppo la nostra provincia ma tutta l'Italia è fatta così, abbiamo anche il fellettino che va avanti con la posa della prima pietra ma di fatto è ancora fermo, quindi il lavoro non ce n'è, c'è crisi, è vero, però è anche vero che le opere che sono finanziate, che potrebbero partire, che potrebbero dare veramente occupazione anche locale, per qualche motivo sono ferme.